I docenti delle scuole medie dell'Aquila sono pronti a protestare contro gli effetti del piano di dimensionamento scolastico firmato dall'assessore comunale alle politiche educative Francesco Cristiano Bignotti, approvato a settembre dalla giunta comunale e poi in seno al dimensionamento regionale il 19 dicembre. Pronti persino a bloccare gli scrutini di gennaio e a restituire le teste dei sindacati se non verranno trovate soluzioni. I docenti hanno trascorso così le festività pianificando le azioni per tutelare il loro lavoro sotto accusa la decisione dell'ufficio scolastico regionale di predisporre una graduatoria comunale nella quale finiranno tutti gli insegnanti delle scuole medie oggetto del dimensionamento Mazzini, Patini, Dante, Alighieri e Carducci. Entro il 20 gennaio tutti i docenti di queste scuole dovranno aggiornare il loro punteggio ed esprimere 5 preferenze. Il pericolo è che pur essendo titolari nella sede in cui lavorano potranno essere superati dai colleghi di altre sedi con punteggio più elevato ed essere assegnati a un'altra scuola. Quali sono gli strumenti che si possono adottare per riparare il danno? Sicuramente bisogna tenersi alle regole, quindi al contratto integrativo per la mobilità che stabilisce quali sono le norme per spostare i docenti e poi provare a ragionare con gli uffici scolastici competenti affinché si trovino delle misure che siano meno dolorose. Perché comunque per un docente che da anni lavora in un'istituzione scolastica, che non aveva nessuna intenzione di trasferirsi in un'altra istituzione scolastica, che porta avanti un discorso di continuità educativa, didattica e che si trova comunque a dover ricominciare da capo in un'altra istituzione, in una scuola che non ha scelto, chiaramente si può parlare di una situazione dolorosa. Intanto domani giornata cruciale per i docenti, dagli 8.30 alle 10.30 si terrà infatti un'assemblea sindacale all'ITIS di Colle Sapone, alla presenza di un esperto nazionale di mobilità dell'FLCCGL che cercherà di dare risposta alle domande e alle preoccupazioni dei lavoratori. Successivamente i sindacalisti incontreranno i rappresentanti dell'ufficio scolastico provinciale e anche il sindaco Biondi si dice pronto a dialogare con l'ufficio scolastico per valutare le modalità di definizione della mobilità del personale docente e ATA. Più che altro per capire in che modo quali criteri sta adottando l'ufficio scolastico, sempre però ripeto all'interno di norme che già esistono e che purtroppo vanno applicate anche se non piacciono.